In questo video, illustreremo i vantaggi e le funzioni principali del modulo preventivi, del software S3 Techware. Il software, permette di effettuare rapidamente, in modo preciso ed analitico, la preventivazione nel settore delle lavorazioni meccaniche ad asportazione truciolo. I vantaggi principali sono Flessibilità e velocità nella stesura dei preventivi. Maggiore uniformità di valutazione, e preventivi sempre allineati e coerenti. Gestione analitica dei costi e possibilità di verificare l'incidenza di ogni voce. Possibilità di valutare rapidamente il variare dei tempi in base alla variazione dei parametri di taglio. Calcolo del costo della materia prima e dello sfrido. Calcolo del costo macchina. Calcolo dei tempi di lavorazione e di sostituzione utensili. Calcolo stimato dei tempi di programmazione e allestimento. Compilazione automatica dei dati di taglio degli utensili associati ai materiali. Scheda ciclo completa di lista utensili, attrezzature, lavorazioni con parametri di taglio, tempo previsto e annotazioni per l'operatore. Gestione delle offerte in corso e creazione del documento di offerta personalizzato. Possibilità di gestire attraverso il modulo commesse tutto il ciclo successivo di produzione. Possibilità di allegare documenti e annotazioni utili per le produzioni successive. Vediamo ora le funzioni principali del modulo preventivi. Possiamo gestire le anagrafiche dei clienti. Le anagrafiche dei fornitori. Le articoli dei clienti. L'archivio dei documenti di offerta generati. Possiamo avere a disposizione in qualsiasi momento queste informazioni per la ricerca e la consultazione. È disponibile un archivio precaricato di circa 400 materiali suddivisi per tipologia, codificati secondo i principali standard. Ecco i gruppi di materiali gestiti. Possiamo aggiungere eventualmente sia gruppi che materiali. Possiamo ricercare il materiale inserendo nella casella di ricerca la parte di uno dei diversi codici internazionali gestiti. Ogni materiale comprende i parametri necessari al calcolo del costo e alla definizione dei parametri di taglio in base all'utesile utilizzato. Abbiamo la possibilità di inserire le macchine della nostra officina con tutti i parametri che saranno utilizzati dal programma per i calcoli dei tempi. Possiamo gestire le attrezzature opzionali disponibili sulla macchina e definire il tempo necessario all'installazione. Possiamo inserire in ogni macchina l'elenco dei tempi passivi che potranno essere utilizzati in fase di creazione del ciclo. Possiamo gestire le manutenzioni programmate delle macchine e avere sempre a disposizione l'elenco delle scadenze. Possiamo allegare qualsiasi tipo di documento alle macchine per avere subito a disposizione i verbali di intervento o qualsiasi altro documento. Possiamo calcolare velocemente il costo orario della macchina compilando la maschera con i parametri richiesti. Possiamo gestire gli strumenti di misura ed indicarne anche la posizione all'interno della nostra officina. Possiamo gestire allo stesso modo anche le attrezzature. Il programma viene fornito con un archivio di utensili di esempio precaricato. Ogni azienda ha però esigenze diverse, e, potrà gestire la creazione degli utensili mettendoli direttamente nella fase di inserimento delle lavorazioni nel ciclo. Oppure potrà inserirli dal menu di creazione. Possiamo gestire i parametri di taglio degli utensili associati alle diverse tipologie di materiali, e, come per le attrezzature e gli strumenti di misura gestirne la posizione all'interno dell'officina. Possiamo creare gli articoli da produrre ed associarli al cliente. Possiamo allegare ad ogni articolo qualsiasi tipo di documento, disegni, fogli di calcolo, programmi CNC, foto. Possiamo inserire nell'articolo i materiali necessari alla produzione. Possiamo creare il ciclo completo formato dalle varie operazioni da eseguire internamente o esternamente. Facciamo clic su Lavorazioni per passare nel dettaglio delle lavorazioni dell'operazione. Possiamo associare ad ogni operazione gli strumenti di controllo necessari e le attrezzature. All'interno di ogni operazione possiamo inserire tutte le lavorazioni necessarie al calcolo dei tempi ciclo con i parametri di taglio compilati automaticamente in base all'utensile e al materiale da lavorare. In base ai parametri di taglio, e, alle dimensioni indicate sul disegno, il programma calcola i tempi di lavorazione, di sostituzione utensile e il volume dello sfrido rimosso. Possiamo introdurre molto velocemente le lavorazioni, inserendo in modo guidato i dati richiesti per il calcolo dei tempi. Possiamo verificare la potenza necessaria assorbita dalla lavorazione, tenendo conto degli angoli di registrazione e di spoglia dell'utensile. Possiamo selezionare l'opzione Lavorazioni mascherate, eseguite contemporaneamente ad altre con tempo ciclo più lungo, e che per questo non incidono sul tempo totale. Scorrendo con il cursore sull'elenco delle lavorazioni, sul lato destro appare il disegno della lavorazione inserita. In fase di creazione della lavorazione, viene inserita automaticamente una descrizione con i parametri di taglio e dimensionali. Possiamo notare anche tutti i tempi calcolati delle singole lavorazioni. Possiamo generare il ciclo completo da dare agli operatori perché possano avere a disposizione i dati inseriti in fase di preventivo, i tempi, e i materiali previsti. Avranno inoltre a disposizione le descrizioni di ogni lavorazione con i parametri di taglio e gli utensili previsti. L'elenco degli strumenti di misura e delle attrezzature e la loro posizione all'interno della nostra officina. Possiamo gestire l'elenco dei documenti di offerta, cercarli e richiamarli rapidamente. Possiamo generare documenti di offerta personalizzati con il calcolo del prezzo in base alla dimensione del lotto da produrre. Il documento personalizzato con il logo aziendale viene generato in formato OpenOffice, o Word. Possiamo generare la lista utensili prevista, con le quantità di taglienti e utensili previste per la realizzazione del lotto. Possiamo visualizzare anche le quantità di materia prima necessaria, e il valore dello sfrido generato. Grazie per l'attenzione